Il monumento in Roma Se sei turista, puoi entrare in storia Per rilasciare l'inizio Puoi prendere le coin E con le coin Puoi prendere l'inizio Se non hai le coin Puoi prendere l'argento Per andare alla stazione metro Ci sono bui persone Per cui puoi cambiare l'argento Per gli euro Per dare qualche coin Poi con le coin Puoi prendere l'inizio L'inizio del tuo padre La madre E se vuoi Il tuo figlio Il tuo amico E tantissime persone che vuoi Perché è più grande E puoi prendere tutti Se non hai il pieno Per prendere la metro Puoi usare l'ultimo sistema Puoi seguire le persone Che entrare Un'unica entra 10 persone Inizio Un'unica entra 3, 4, 9 persone Inizio E' molto semplice La gente ha un cartone Tu puoi prendere E entrare Ciao amici Questo è un quarto Qui il colore è rosso Per il veicolo E ora è rosso Non perdere il tuo tempo Prendere il rosso E vai fuori No problemi Ciao amici Qui sono Colosseum Se vuoi un guida Che ti racconta La storia di Colosseum Potete pagare Ma restate qui E ascoltate Per gratis Ok? Questo è un gruppo Qui sono Colosseum Qui sono il guida Se vuoi prendere il guida Per gratis Puoi ascoltare E' buono per te Ma se capisci Ciao amici Se sei un turista in Roma E vuoi venire Con i tuoi figli E' molto sicuro E' molto buono Ci sono un'area verde E' molto buona Perché la città è molto clean E puoi prendere i tuoi figli Tutti tuoi E puoi andare Oh, scusate No, solo un po' No problemi Questo non è pericoloso Ah, molto buono per i tuoi figli Puoi giocare di gioco Puoi usare Per respirare E puoi Seguire dentro Puoi trovare dei tuoi figli Per i tuoi figli Ci sono Un caccio Come Santa Claus E se hai piccoli Molti figli Puoi mettere dentro Qui E' molto divertente E confortabile Ma stessa Il progetto Sal